bene buongiorno oggi siamo qui con bernardo bertoldi all'università di torino professore associato dell'università di torino fondatore di free age che nel 2015 pubblica sergio marchion net chrysler dove viene approfondito come il business man ha riportato in vita chrysler inizierei chiedendole dato che in questo momento storico ci viene naturale parlare di crisi cosa significa questo concetto e come va affrontato dato che noi che siamo nati nel 2000 siamo stati definiti figli delle crisi e da chi ricordi non siamo mai stati economicamente forti quindi proprio su questo c'è anche la provocazione finale della mostra che è possibile ricostruire e ripartire noi con speranza e fiducia rispondiamo sempre ma secondo me il primo passaggio prima di capire come partire o come ripartire e capire cosa vuol dire essere in crisi perché in effetti se uno è in crisi per vent'anni poi alla fine in crisi per sempre no e secondo me dovete ragionare dovete vedere il vostro futuro e anche il mondo in cui vivete fatto di due dimensioni uno è la direzione che il mondo e la vostra vita prendono e l'altra è la velocità che il cambiamento ha allora tutte le volte che la velocità è elevata sia un momento di crisi perché alla fine se voi guardate l'etimologia crisi non vuol dire altro che scegliere quindi è chiaro che in un momento in cui la velocità e lenta tu puoi permetterti di non scegliere se sbagli direzione pian piano va in decadenza se trovi la direzione giusta evolvi invece quando le cose vanno veloci devi decidere veloce perché se tu sbagli la direzione implodi e invece se riesci a capire qual è la direzione giusta in un momento di grande velocità allora puoi fare davvero una evoluzione veloce che diciamo nella storia si chiama rivoluzione e io credo che questi siano momenti da rivoluzione per quello che i giovani come voi devono contare in questi momenti perché le rivoluzioni le fanno i giovani quindi io credo che voi non dobbiate pensare al mondo in crisi come debolezza economica voi dovete pensare al mondo in crisi come un mondo che va incredibilmente più veloce di quello a cui eravamo abituati e poi qui ci sono i luoghi comunica sapete più piatto e più connesso la gente si parla di più viaggia di più quindi è chiaro che negli ultimi vent'anni sono successe cose che negli scorsi 30 40 forse non erano successi quindi non vivete in un mondo in crisi ma solo in un mondo un po più veloce dove crisi significa decidere più velocemente in integrazi mille e inoltre lei si è soffermato a parlare del metodo utilizzato a Sergio Marchionna anche appunto in Sergio Marchionnet Chrysler che citavo prima riscontandone delle particolarità come ad esempio la fusione tra la leadership e il management ha poi affermato che il gruppo di leader che si era formato nel corso degli anni doveva prendersi una grossa responsabilità dopo la sua morte nel corso di questi anni mentre alcuni lo seguivano in capo al mondo altri l'hanno abbandonato dunque come viene fuori questo concetto di leadership anche distruttiva nella storia di Sergio Marchionna ma allora intanto una delle cose affascinanti è che quando con il professor Kaplan abbiamo cominciato a lavorare al caso l'idea era di fare un caso di turnaround perché una delle più complesse aziende americane era stata salvata in un momento di grave crisi sostanzialmente iniettando solo debito e non equiti per cui era complicato in tempi rapidissimi e poi ci si è resi conto che in realtà di tecniche manageriali di turnaround non c'era tra virgolette niente di nuovo ma c'era qualcosa di incredibilmente nuovo nel gruppo di persone che lo aveva fatto e quindi per dirlo in supersintesi non era gestire e non era guidare quindi non era fare il manager o fare il leader ma era guidare e gestire insieme che è una cosa anche dal punto di vista accademico strano perché noi abbiamo corsi di management e corsi leadership sono abbiamo professori di materie sono materie diverse per noi anche nelle aziende sono sono ruoli diversi invece Marchionna è riuscito a costruire questo sistema che si basava sul gruppo e quindi era il gruppo di leader che guidava e decideva insieme e quindi ci volevano delle caratteristiche specifiche in ognuno di questi di questi elementi il primo era lui cioè lui era la macchina che faceva che guidava questo gruppo di persone e lì c'era la sorpresa dei venti riporti eccetera in realtà era perfettamente normale perché era il modo con cui questo gruppo funzionava il gruppo aveva sostanzialmente tre caratteristiche e cioè aveva uno scopo se voi leggete anche le sue dichiarazioni il giorno in cui è entrato in Chrysler no era dava immediatamente una una visione chiara di qual era lo scopo per cui le cose si faceva si facevano il gruppo di leader non era una gerarchia quindi ognuno era valutato in base al merito le cose che sapeva fare a come partecipava questo gruppo e questo valeva per quei 21 adesso sembra che in Chrysler all'inizio fossero 21 ma valeva per tutti diciamo i gruppi delle aziende che lui ha guidato e valeva per i sottogruppi perché poi ognuno di quei leader aveva un'organizzazione simile simile sotto e il terzo elemento di questi gruppi è che erano chiaramente dei gruppi aristocratici cioè le persone che io ho intervistato che facevano parte del GEC erano persone che capivano che il loro ruolo era un ruolo importante ed era un ruolo che li rendeva diversi dagli altri quindi li rendeva più importanti e si riconoscevano l'uno con l'altro questa categoria diversa all'interno dell'azienda poi ci volevano i membri di questo gruppo che erano persone che magari ci stavano per qualche anno ci sono state manager che magari sono stati diciamo tutta l'era Marchionne con lui ma altri che naturalmente sono entrati e poi hanno cambiato lavoro ma questo continuo creazione di nuovi leader richiedeva che questi leader fossero dei volontari quindi bisognava volerlo perché era faticoso credo anche in termini di pressione psicologica Marchionne diceva devono essere dei beginners cioè non devono devono ragionare mente aperta devono essere dei neofiti delle cose non devono mai preoccuparsi di dire non si fa perché non l'abbiamo mai fatto eccetera la scuola della strada 500 è diventata famosa ho preso un gruppo di ragazzi giovani che ha fatto la 500 che poi era guidata da me allora in pochi in pochi mesi perché non sapeva che non si potesse fare e il terzo elemento fondamentale è che dovevano avere una direzione assoluta una delle frasi che a me ha più colpito è non puoi aver tempo per la vita normale se stai facendo la storia se stai realizzando ciò che ti definisce no e quindi questo commitment era obiettivamente questo tutti quelli che hanno lavorato con lui non si stancano di dirlo abbastanza forte e poi c'era il capo il leader dei leader cioè questa persona che guidava questo gruppo e alla fine la cosa che mi ha colpito di più intervistando le persone che hanno lavorato con lui è che tutti ti dicevano beh alla fine lui è più intelligente nella stanza the smartest guy in the room era la cosa che sentivi di più ma se l'erano proprio trovato cioè probabilmente lo vivevano e lui ti diceva esattamente il contrario ti diceva il mio ruolo è scegliere quelli più bravi di me a fare qualcosa e quando tu li vedevi insieme cioè vedevi questo gruppo che che lavorava insieme era proprio vero cioè loro erano più bravi di lui nelle cose tecniche nella loro funzione nel loro ruolo ma alla fine lui faceva andare tutto più veloce io una volta l'ho anche scritto una delle persone che aveva fatto con lui diceva ma si sai lo vedi chiaramente quando c'è lui nella stanza va tutto veloce quando esci è come se il disco si fermasse e questo era essere the smartest guy in the room l'altra cosa che secondo me è ripetibile la capacità di essere un visionario pragmatico quindi lui ha sicuramente dato delle ambizioni a molti gruppi di persone in molte aziende perché poi non è che ne ha gestita una ma alla fine era sempre pragmatico c'era sempre un 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 orizzonte temporale definito un piano con dei numeri finanziari definiti cioè non era sognare e basta credo una delle volte che che l'ho capito di più era il primo quarter in Chrysler il titolo era c'erano cinque anni per fare per fare il piano quindi erano 20 20 trimestri e lui intitolò la presentazione one done 19 to go cioè l'idea era adesso abbiamo 19 volte per fare quello che dobbiamo fare questa la pragmaticità estrema della persona che però aveva un sogno ambizioni enormi quindi possiamo dire che marchionne aveva un metodo ben definito di lavoro e approccio lavorativo cosa ci ha insegnato maggiormente quello di sergio marchionne questo metodo qua ma allora il il metodo che lui aveva era era il metodo che io ho definito della pentola pressione pressure cooker e mi è venuto dopo aver passato il tempo a intervistare molte persone all'interno di fiat di cnc di chrysler perché era veramente un mondo in cui la pressione che era diciamo imposta al gruppo di persone a top management li faceva diventare diversi cioè erano persone che proprio come l'acqua che diventa vapore e cucina più in fretta non era tutto tutto fatto in come dire pressato e poi c'erano queste due figure specifiche che erano il CFO e l'HR che avevano diciamo la funzione di battere il tempo il CFO quindi di dare il timer della cottura e l'HR che erano le valvole no quando bisognava mettere più pressione magari mollare un po' la pressione perché il gruppo era era sotto stress e non sapevo non riuscivo a spiegarlo per cui mi è venuta in mente questa questa analogia della pentola pressione ne ho parlato con un paio di persone a lui molto vicine che mi hanno detto sì bravo vogliela spiegare tu al capo che lui ha una pentola e per cui io me lo ricordo questo giorno di giugno un po' dubbioso no era agosto perché era fino agosto arrivo in ufficio e io gli faccio vedere la slide dicendo ma io ho capito questa cosa qua lui la prende la guarda ci mette chiaramente 20 secondi a capire quello che stavo cercando di dirgli e gli è piaciuta un sacco per cui è successa più volte che lui stesso dicesse il mio metodo della pentola pressione o che giornalisti mi ricordo New York Times l'ho pubblicato due o tre volte andando a chiedermi la pentola pressione ma era obiettivamente il modo per spiegare analogicamente il metodo di lavoro e poi c'era un meccanismo affascinante che non so se è replicabile da altri manager ma sicuramente era il suo tratto distintivo era la novità lui lasciava una libertà assoluta alle persone che lavoravano con lui di fare ciò che era necessario per ottenere gli obiettivi quello che era straordinariamente chiaro erano gli obiettivi che bisognava ottenere poi tu avevi tutta la libertà del mondo e questo faceva sì che questo gruppo di persone fosse incredibilmente forte dentro l'azienda perché tutti sapevano che potevano fare e poi quando qualcosa non riuscivano a farla o non potevano farla perché non avevano l'autorità magari era un'altra funzione un'altra area il leader di questa sistema pentola pressione era sempre disponibile per cui tu potevi mandargli un messaggio telefonargli o chiedergli un incontro e lui ti reagiva immediatamente quindi da lì il mito che poi i giornalisti sono inventati i dieci blackberry quelle robe lì che in realtà sono tutte balle la verità è che lui organizzava questo gruppo di 20 25 persone e poi era perfettamente disponibile immediatamente questo aveva due effetti il primo è che la persona dovevano sapere che andavano da lui solo se era necessario e magari anche per decisioni importantissime e si mandava solo un messaggio se la risposta era sì o no e magari per questioni meno importanti dove però c'era bisogno di discutere si chiedeva un incontro questo liberava a lui tantissimo tempo io dopo il caso su marchionne ho lavorato con altri con altri amministratori delegati di grandi aziende e faccio sempre quest'analisi quanto tempo spendono nel progress review cioè nel farsi raccontare dalle persone che lavorano in azienda che cosa sta succedendo e marchionne non lo faceva mai non c'erano riunioni di progress review c'erano solo interazioni con il proprio management per dire fai questo fai quello si fai così parla con questo parla con quello ok vai va bene oppure no aspetta e poi c'era il sistema del ritmo per cui cosa succedeva che in un mondo normale se tu bisogna di parlare col capo chiamino la segretaria passano un paio di settimane lo incontro magari passano due giorni e lui invece non c'era quel problema lì per cui se aveva un problema ti rispondeva subito non avevi tempo di aspettare e questo ritmo era chiaramente infernale e poi c'erano le riunioni mensili adesso tutti parlano della riunione del jack ma in realtà c'era una riunione commerciale una riunione industriale cioè c'erano tre quattro riunioni formalizzate che erano le riunioni che davano il ritmo a questo gruppo di persone dove i risultati dovevano essere portati dove quel gruppo di leader decideva insieme si decideva tutto lì per cui anche lì al netto delle diciamo della parte più curiosa e diciamo scenografica era il metodo con cui lui poi metteva questo gruppo al lavoro con delle cadenze prefissate per cui c'era un ritmo sempre uguale nel decidere nel fare le cose che chiaramente aumentava la pressione della famosa pentola un altro tema ricorrente quando si parla di Sergio Marchionne è quello della visione e quindi volevamo chiederle in quali episodi che hanno caratterizzato questa storia di ripartenza possiamo riscontrare la visione ma io credo che la cosa più affascinante delle visioni perché ogni fase di cambiamento delle aziende che lui ha guidato avevano una visione molto chiara se pensiamo al 2004 salvataggio put option dgm eccetera o se pensiamo ai sei mesi per fare il massaggio cardiaco alla chrysler o se pensiamo anche al modo con cui ha reinventato cnh quindi le visioni erano tante ma la cosa incredibile era la capacità di chiarezza con cui questa visione era definita e questo io ci ho messo un po' a capirlo ma poi alla fine me l'ha spiegato lui si racconta che lui fosse laureato in filosofia che è vero ma in realtà lui era laureato in logica cioè lui per tre anni ha studiato logica e da quel momento in poi io ho pensato che anche noi nelle aule dovremmo insegnare ai futuri manager logica perché aveva una capacità di ragionamento così fine che alla fine vedeva il mondo diverso da come lo vedevamo tutti noi e capiva cose che gli altri non capivano per cui chrysler è nata perché lui chiedeva alla sorda che era il gestore di chrysler ma come fate se il mercato americano va a 10 milioni di pezzi e gli altri dicevano no ma impossibile e lui aveva già capito che era così e aveva già capito che la crisis sarebbe dovuta essere salvata quindi vedeva la realtà in modo diverso perché aveva una mente logica superiore ma questo per assurdo non sarebbe bastato perché ne avrebbe fatto sicuramente un visionario ma lui aveva una umiltà una una un belness proprio c'è la capacità di dire ma io però devo devo capire devo sapere devo verificare devo impegnarmi devo devo e quelle due quei due elementi insieme hanno fatto hanno fatto secondo me il vero essere visionario io adesso lo leggo perché è una frase che mi ha detto ma che ho scritto più volte preferisco non non storpiarla e lui quando gli diceva cosa vuol dire essere un leader ha risposto tutte le 300 mila persone di fiat chrysler guardano ininterrottamente il loro leader il leader deve essere onesto nel suo lavorare per il meglio dell'azienda e deve essere un esempio sempre se li tradici una volta sei finito hai perso la fiducia che ispiri come se ho solo due diritti quello di scegliere i leader con cui lavorare e i valori che guidano l'azienda non mi sembra una frase di un CEO pieno di sé e stiamo parlando di uno bravo e di uno che quando ha scritto queste cose quando mi ha detto queste cose era già chiaramente uno dei più bravi però continuava avere questa questa visione di servizio dell'azienda a fare le cose per l'azienda essere un esempio per le persone e quello ti permette di essere uno che poi quando ha una vision può anche realizzarla invece legandoci all'edizione del meeting di Rimini di quest'anno partiamo dal titolo che è il coraggio di dire io e quindi potremmo dire che l'audacia di dire io porta con sé inevitabilmente anche contraddizioni ed errori per sé e per gli altri cosa vuol dire per lei avere il coraggio di dire io nel contesto socio economico attuale allora questa non lo so ma vi rispondo con un aneddoto di marchionne che dice io che a me ha colpito quando lavoriamo sul caso con con rob caplan abbiamo intervistato anche i membri della tax force che il governo americano aveva fatto per decidere come se salvare come salvare in realtà ma come se salvare gm e kreiser e kreiser era chiaramente quella meno da salvare perché era più piccola molto più complicata si poteva magari in un certo punto fondere con gm tant'è che a gm vennero dati mi sembra 15 miliardi non mi ricordo più di dollari di capitale mentre a kreiser vennero date 4 miliardi di debiti vennero concessi un debito aggiuntivo e alla fine quella della tax force che erano ratner che era il capo e blum che si occupava di kreiser ci hanno detto ma in realtà noi non eravamo tanto sicuri di salvarla a un certo punto addirittura abbiamo quasi pensato di dire ma diamogliela lui sta azienda che sa giusti e lui non ha mai accettato due cose non ha mai accettato di essere lui l'amministratore delegato cioè era un'operazione era una fusione con fiat non era un incarico personale e questo vi dà l'idea del coraggio di dire noi invece che io e dall'altra parte ha sempre imposto nella trattativa anche se gli hanno chiesto più volte di non mettere soldi e di non fondere prima che kreiser fosse salva cioè di non mettere a rischio fiat prima che kreiser fosse salva e su questo ratner e blum investiva in come dire insistevano molto perché i soldi erano importanti soprattutto quelli di equity e quando gli ho chiesto questo lui guardo me e rob e dice no io dicevo sempre a ratner che lui aveva me cioè la frase che diceva i put my skin on the table quindi voi avete la mia pelle se fallisco fallisco come manager se fallisco il mio tempo la mia carriera saranno finite se fallisco tutto quello che abbiamo fatto non sarà servito a niente però avremmo salvato fiat e non saremmo riusciti a salvare kreiser perché non siamo stati abbastanza bravi ma io non posso mettere a rischio fiat per salvare kreiser però posso mettere a rischio me per salvare kreiser e io credo che poi questo lui l'abbia fatto nel senso che non solo è riuscito a costruire una struttura per cui poi il deal è stato fatto in modo che fiat venisse preservata da un potenziale rischio kreiser per i primi anni ma io credo che lui davvero abbia messo the skin on the table e quindi quindi abbia dato tutto se stesso per fare una cosa che ancora oggi gli americani guardano con con dire come dire con ammirazione il fatto che il caso che abbia scritto ancora si insegna ad Harvard vuol dire che probabilmente qualcosa ha fatto di utile perché poi il caso non è un grand case è quello che è stato fatto dal protagonista che si insegna e quindi io credo che il coraggio di dire io in questo caso sia stato I put my skin on the table grazie a tutti